Sì, grazie Presidente. Questo intervento è per annunciare un atto di sindacato ispettivo relativo a un atto di aggressione che si è verificato qui a Roma nel quartiere Squilino nella notte tra domenica e lunedì, in cui una giovane copia di italiani è stata aggredita con violenza, colpevole di scambiarsi effusioni, un bacio davanti a una moschea. Questa è un'aggressione che dovrebbe preoccupare tutti coloro che si ergono in difesa di principi di legalità, di sicurezza e di libertà. Un'aggressione che merita un atto di sindacato ispettivo rivolto al ministro degli interni Minniti perché si è verificato davanti a una moschea abusiva che era stata più volte chiusa l'ultima volta nel febbraio scorso e che però nella notte tra domenica e lunedì era aperta, era stata riaperta. Dunque nel mio atto di sindacato ispettivo chiederò al ministro Minniti le ragioni della riapertura di questa moschea abusiva, ma chiederò anche quanti siano i luoghi di culto abusivi, illegali nel nostro Paese e chiederò anche che tipo di approccio, che tipo di linea voglia seguire il Governo italiano nei confronti di questi presunti luoghi di culto, appunto abusivi, che per quello che ci riguarda dovrebbero essere semplicemente chiusi, mentre non si capisce perché sia così difficile chiuderli. Noi difendiamo e propaghiamo in tutti i modi la libertà di culto, ma non può esserci libertà di culto se essa non si muove all'interno di perimetri chiari di legalità.